Sacro e profano, cultura e natura. Ad Accettura, provincia di Matera, si rinnova il Maggio di San Giuliano, simbolo di identità culturale per gli accetturesi, viventi in paese o sparsi nel mondo. Il matrimonio degli alberi, una delle feste più belle del Mediterraneo. Vi aspettiamo quest'anno dal 14 al 17 maggio. Concluderà la festa Giovanni Caccamo. Per maggiori info visita il sito www.ilmaggiodiaccettura.it Grazie per la visione!